Noi è un grande prequarto da una squadra sicuramente sconosciuta fino all'anno scorso, ce l'abbiamo fatta, abbiamo scritto la scuola della Fischè, siamo arrivati dal niente, siamo arrivati qui e ora ci veniamo alle finali. È un grande orgoglio fare parte di questa squadra, l'abbiamo lottata e ovviamente ha vinto chi oggi l'ha voluto di più e chi ci ha messo col cuore, abbiamo dato il massimo e niente ce l'abbiamo fatta. Te l'hai già detto ma te lo richiedo, questa partita è stata importante per la conquista della promozione in Serie A però domani c'è da conquistare un titolo che è la Coppa Italia di A2, quanto ne avete ancora da dare su questo campo per portarla a casa? Siamo 16 ragazze con tutto il pubblico che è arrivato oggi, grintosi al massimo e ce la metteremo tutta per vincere contro Brune e che daremo il nostro meglio e chissà buona palla a mano a tutti, vinca la migliore. Siamo 16 ragazze con tutto il pubblico che è arrivato oggi, 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 è arrivato oggi. Grazie. Grazie.